buongiorno a tutti e buon inizio settimana allora come tutti i lunedì faccio un video con diciamo le novità della settimana allora andiamo un attimo prima nella sezione notizie perché qualche giorno fa mi è arrivato una notifica questa vinci un premio col tuo design della fattoria dove vi faceva video mi faceva vedere un video su youtube che spiegava che se noi potevamo partecipare a diciamo un concorso far vedere una parte modificare per esempio con la modalità modifica io per esempio ho modificato un po perché ho preparato diciamo una zona stile autunnale ho fatto lo screenshot del di tutte le decorazioni come avevo diciamo come avevo decorato quella parte e l'ho inviata nel link che loro mi avevano scritto nel messaggio allora la mia il mio screenshot la mia decorazione diciamo la mia fattoria non è stata scelta perché mi è arrivata come risposta che non non è non rispettava diciamo le impostazioni che loro avevano detto tutte le caratteristiche che loro avevano detto che doveva rispettare diciamo la decorazione voi che avete fatto avete provato a inviare a partecipare perché se non sbaglio c'erano in palio mille diamanti poi c'era anche un'altra cosa un concorso in realtà non un concorso un sondaggio a cui rispondere però non c'è nelle notizie un sondaggio se si rispondeva al sondaggio venivano dati 15 diamanti allora a me non sono arrivati ancora i 15 diamanti ditemi se a voi sono arrivati se li avete avuti poi andiamo a vedere un attimo il calendario degli eventi di ottobre oggi è 14 allora inizia il calendario dell'evento di greg per halloween andiamo a vedere visitiamo la fattoria di greg che vediamo un po vedo insieme a voi perché io ancora non ero entrata oggi allora non vedo nessun pacchetto a terra perché sto registrando questo video di prima mattina e quindi probabilmente non è ancora allora giusta perché in italia il gioco si aggiorna tutte le mattine alle 10 di mattina e quindi essendo sono le nove e mezza fra mezz'ora dovrebbero uscire diciamo i pacchetti di greg e vediamo un attimo se non sbaglio per dieci giorni sono dieci pacchetti andiamo a vedere con sicurezza non vi voglio dire sciocchezze allora veniamo di nuovo nelle notizie rientro perché a volte fa difficoltà a rientrare nella sezione notizie infatti nel frattempo che si riprende allora ritorniamo nella fattoria di greg perché vi voglio far vedere un'altra cosa allora vedete la casa e di questo stile qui se non sbaglio sempre oggi meggy porterà questo stile cioè uscirà con meggy lo stile della casa questo che ha greg anche il furgone dovrebbe uscire questo stile qui e anche la bancarella uscirà questo stile io per ora ho lasciato la casa così con diciamo con questi stili che ho già avevo prima anche il furgoncino ho messo solo il furgoncino con la zucca e la bancarella in realtà non l'ho cambiata proprio perché non c'era nessuna offerta di meggy che mi piaceva e che non costava tanto allora per quanto riguarda il derby di questa settimana io non sono riuscita a fare tutti tutti gli incarichi adesso per esempio normalmente di lunedì non fa fare con gli altri derby il derby già è chiuso invece oggi mi dice che c'è la possibilità ancora di poter fare qualcosa vediamo se allora come furgoni ne ho solo due pronti vediamo un attimo se allora ci sono parecchie persone che hanno bisogno d'aiuto vediamo se riesco a fare almeno i tre incarichi vedete un'ora e mezza mi dice un'ora e mezza quindi si aggiorna alle 11 e non alle 10 non so per quale motivo si aggiornerà un'ora più tardi oggi allora vediamo un po se riusciamo ad aiutare qualcuno per tenere qualche altro punto vediamo vediamo un pochino ma ci sarà sicuramente qualche pianta infatti una due e tre ma ce ne sono anche altre quindi ritorno nella mia fattoria riprendo lo stesso incarico perché con questo derby relax puoi prendere pure cinque volte sempre lo stesso incarico se ti è più comodo ritorniamo nella fattoria dove stavo prima e andiamo in affidazione altri tre piante che ho già viste 1 2 e 3 ce ne dovrebbero essere altre ancora 1 2 e 3 ok quindi ritorno e rifaccio la stessa cosa allora riprendo lo stesso incarico e ritorniamo sempre in quella fattoria lì diciamo che mi è andata bene stamattina vediamo un attimo dove erano ma la 1 2 e 3 sono finite allora andiamo a riscattare i punti questo tipo di derby diciamo è veloce se gli incarichi nel tabellone sono fattibili è velocissimo cioè in 5 minuti si fa come incarico allora vediamo un attimo in qualche altra fattoria se possiamo ecco qua 1 2 e 3 e abbiamo fatto un'altra volta adesso visto che ho due furgoni già pronti invece degli aiuti prendo i furgoni sempre 3 sperando che mi esca qualche altro incarico fattibile modo veloce altrimenti rimango bloccata a quest'altra cosa vedere il furgone è andato via io prima che arriva posso già spedire l'altro ordine poi quando torno il furgone prendo le ricompense di tutti e due ordini che ho spedito è una nuova funzione che hanno messo con l'aggiornamento di ottobre allora io adesso devo fare un altro futuro elimino gli incarichi che sono diciamo che ci vuole più tempo chiedo aiuto per qualche vediamo un po mettiamo qualcosa in vendita sul giornale con la speranza che chi viene sul giornale ci aiuti pure con loro con gli ordini del furgone vediamo un attimo nel frattempo vediamo un po i visitatori cosa vogliono prendiamo pure il regalo diciamo del giorno un diamante poi vedete mi da anche quattro cappelli però bisogna vedere un video quindi li prendo dopo con calma io per adesso come decorazione ho preso solo la tomba il recinto e di vetrate il recinto di mille piedi quindi ho solo tre decorazioni per adesso della collezioni di halloween ho visto che domani uscirà come decorazione diciamo della collezione il maiale delle pulizie questo da 240 cappelli come per completare diciamo la collezione che sarebbe questo poi se non sbaglio non c'è nient'altro quindi le altre decorazioni uscirà sicuramente qualche evento non so quale perché qui dice puoi ottenere questa decorazione dell'evento dei traguardi della community ci sarà sicuramente qualche altro evento non so quando forse sempre martedì speriamo così se riusciamo a completare tutti quanti queste collezioni sarebbe un'ottima idea allora visto che nessuno mi ha aiutato aspetto un pochino di tempo è un po prima che si aggiorna che scade l'incarico perché questo scade tra mi dice 17 minuti quindi alle 10 tra poco non so se lo riuscirò a completare e per adesso è tutto se ci sarà qualche altra novità o qualche altro evento particolare farò un altro video quindi per oggi è tutto buona settimana ci vediamo al prossimo video ciao ciao